ciao 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 a tutti amici dunque oggi volevo parlarvi della violazione del copyright e i consigli per l'uso quindi parliamo di steemit benissimo e andiamo a vedere la violazione di copyright dunque come sapete assieme al plagio la violazione di copyright è una delle cose più gravi che può essere che può succedere quindi state molto attenti ecco infatti c'è un'informazione che dovete sapere se voi mettete un post su steemit dopo sette giorni non potete più modificare né cancellare questo post e per questo ci sono delle conseguenze nel senso che con una semplice ricerca su google sarà possibile ritrovare il vostro post e quindi potreste avere delle conseguenze legali da parte di colui il quale ha scritto il post incriminato quindi attenzione a non saccheggiare foto di proprietà di terzi senza chiedere appunto l'autorizzazione e appunto state molto attenti perché dopo sette giorni non c'è modo di risolvere questo problema nella fattispecie una foto non autorizzata crea dei possibili problemi legali se la persona veramente si arrabbia quindi tutto quello che viene messo dopo sette giorni resterà per sempre nella blockchain spero di aver sottolineato bene questo concetto in modo tale che sia chiaro e passo ai consigli e alle riccomandazioni che abbiamo raccolto per voi dunque fate bene attenzione a quello che scrivete a quello che postate perché ci sono delle conseguenze come ho detto prima questo è il primo consiglio il secondo consiglio è di non copiare mai articoli artrui soprattutto se sono presenti in steemit a maggior ragione ma anche se sono presenti in altri blog perché comunque potreste essere tranquillamente scoperti poi è possibile tradurre un testo che vi piace moltissimo in italiano attenzione però vi raccomando di chiedere l'autorizzazione di quello che l'autore della versione originale come ulteriore consiglio se avete un blog e questo lo sottolineo soprattutto per chi inizia per favore se avete un blog prima scrivete su steemit e poi scrivete sul vostro blog personale altrimenti quello che succede è che vi auto plagiate lo dico così nel senso che poi cita che è un bot anti spam sicuramente vi troverà in pochi minuti e quindi è una spiacevole conseguenza questo quindi vi lascio anche uno uno screen per farvi capire quello che voglio dire puoi scrivere citazioni di un testo se queste testo tradotto rappresenta soltanto il 10 per cento del tuo intero testo e questa citazione deve essere scritta in questo modo si mette il simbolo di maggiore si lascia uno spazio dopodiché si scrive il testo e si dà invio allora le foto che non sono di vostra proprietà possono essere tranquillamente scaricate da dei siti appositi allora il primo sito che vi consiglio è pizzabay e secondo è pexel tutti punto com pizzabay punto com pexel punto com oppure c'è la possibilità se andate su google cliccate su immagini e dopo di che troverete diritti di utilizzo e nella sottosezione scegliete contrassegnate per essere utilizzate e specificate la fonte quindi voi cliccate su questo questa possibilità contrassegnate per essere riutilizzate e dopodiché specificherete la fonte benissimo questo era diciamo l'ultimo dei consigli e adesso invece volevo ricordarvi qualcosa su steemit sono vietati i referral links cosa sono i referral links i referral links sono tutti quei link che un utente pubblica e che riconducono ad un sito web all'interno del quale l'utente stesso usufruisce di vantaggi o guadagni grazie anche ad altri utenti quindi il post con referral links corrono il rischio di essere flaggati da altri utenti quindi attenzione è pericoloso ricevere un downvote ed è anche brutto ricevere un downvote inoltre mi raccomando porre attenzione su argomenti quali politica e religione se si possono evitare va molto meglio soprattutto se contengono proselitismi come ultimo cosa che posso ricordarvi se avete dei dubbi se avete dei problemi circa lo stile per la stesura di un testo vi raccomando di fare riferimento al canale cancelletto post della piattaforma di discord nel quale troverete appunto dei consigli dei link dei post pubblicati da altri utenti insomma potrete informarvi vi auguro buon lavoro a tutti e vi consiglio di studiare di leggere il post che vi linkerò nel sottopancia qui su youtube grazie a tutti e un bacio ciao ciao